rinpo ci sta dicendo che prima di recitare l'offerta mandala facciamo la recitazione del fondamenti tutte qualità eccellenti adesso c'è la recitazione dei preghiere l'insegnamento e l'odo buddha sacchiamone l'amato un paccio d'entendente c'è un scepa da c'è un paio ando passò per sangue rinpa tascia per tutta devo a scepa il ginta in chi è pacchia parco per più alla domenica passano il chandante che per la via scacca tutta la cassa e l'occhio sul giro Bacca Senare Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come... è come nel sogno. vi sposate? è come una persona? e... 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 veramente... e... 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 è... se la mente... e... allora... mostra... è molto molto... è... come... ... persone... e... e... è... e... è... ma... ... ... l'io... ... e... ... infer... ... ... è come... ... 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 Grazie a tutti. 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 E quindi, potete ottenere, Grazie a tutti. e quindi, per quanto sofferenza, c'è nel samsara, si può dire, non si vede, non si vede, non si vede. e quindi, l'ignoranza, 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 e quindi, 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 di cui soffrono, tutte, quindi, 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 quindi questo questo è quindi da rinascita senza inizio non da questa vita ma da rinascita senza inizio mentre questa vita noi siamo ignoranti siamo nati con la sofferenza della nascita la sofferenza dell'invecchiamento la sofferenza dell'invecchiamento la sofferenza della malattia la sofferenza della morte sofferenza dell'insoddisfazione per esempio depressione e tutte queste l'incontrare oggetti indesiderabili ed essere separati da non riuscire a trovare gli oggetti del desiderio anche se si trovano bisogna essere separati da queste e poi ancora c'è ci sono i tre tipi di sofferenze tre tipi di le sofferenze degli aggregati ci sono tre o cinque non sono sicura sofferenze di aggregati perché sono nato con sofferenza perché siamo nati con così con queste preoccupazioni con queste ansie perché c'è una piccola sofferenza perché perché la mente la mente nella vita precedente la mente prima di questa la continuità della mente non si è liberata dalla sofferenza non si è liberata dalle cause della sofferenza delle afflizioni mentali e del calma non siamo noi ci siamo liberati da questi non abbiamo dato la libertà a noi stessi della liberazione delle afflizioni mentali del karma e dalle cause della sofferenza e quindi questa è la natura della sofferenza senza inizio da rinascita senza inizio da rinascita senza inizio non ci non abbiamo eliminato la radice di tutta la sofferenza che l'ignoranza l'ignoranza la mente che non conosce l'ignoranza questa particolare la radice di tutte le sofferenze tutte queste diverse tipi di sofferenze ma questo in particolare da rinascita senza inizio non siamo stati in grado di liberare noi stessi da questo e a causa di questo abbiamo creduto completamente nelle cose come veramente esistenti da rinascita senza inizio siamo stati sotto al controllo sotto controllo di queste non ci siamo liberati da questo e quindi abbiamo sempre creduto in questo è seguito questo credendo in quello ed è proprio come un nemico ed è esattamente come il vero nemico è il vero nemico ma ma per voi l'avete considerato come amico l'avete considerato come amico come il vostro amico che vi ha ingannato tutta la vita quando voi non realizzate questo quando è buono realizzate questo via ingannato continuamente e ma non lo vedete questa cosa non realizzate questo e quindi questa è la situazione e quindi l'ignoranza l'ignoranza vuol dire essere sotto controllo di questa ignoranza e da dove tutte quante le sofferenze le sofferenze degli inferni le sofferenze dei preti le sofferenze degli animali le sofferenze degli esseri umani le sofferenze di isola degli esola tutte queste vengono da arrivano da questo e tutte le esperienze di sofferenze di esseri umani ancora non sono terminate e quindi così noi siamo rinasciti come esseri umani adesso noi siamo esseri umani stiamo sperimentando di vari tipi di sofferenze degli esseri umani e questo ancora non è terminato per cui per cui per affinché gli esseri sensienti possono arrivare a terminare eliminare o fermare l'oceano di sofferenze del samsara della sofferenza degli inferni le sofferenze dei preti le sofferenze di animali le sofferenze degli esseri umani l'oceano di sofferenze di asura degli asura l'oceano di sofferenze che la cui continuità non ha inizio per cui per liberarli completamente da tutte queste sofferenze occorre bisogna avere la liberazione dalle cause della sofferenze dell'afflizione e il karma l'ignoranza bisogna liberarci dalla radice che è l'ignoranza ecco perché buddha ha insegnato naturalmente non è soltanto di essere liberi dalle sofferenze del samsara non soltanto questo ma essere libera dal nirvana inferiore e ottenere la felicità incomparabile della totale cessazione da tutte e poi che l'oscurazione e completare tutte le realizzazioni a completa illuminazione così che gli esseri sensienti e riuscire a condurre tutti gli esseri sensienti a quello stato e buddha ha insegnato o l'aspetto della saggezza andata al di là la prossima paramita la saggezza che va al di là e tutti quanti gli insegnamenti sulla vacuità ci sono ci sono 12 volumi 12 volumi di di testi insegnamenti che buddha ha insegnato in un modo elaborato gli insegnamenti sulla vacuità e quindi ci sono poi c'è ancora ci sono ancora e questi insegnamenti sono condensati o riassunti in quattro volumi più più riassunto in quattro volumi e poi poi c'è ancora più riassunto è un volume e poi ci sono le 80 stanze e poi ancora l'insegnamento ancora più riassunto ancora più riassunto è appunto e lascerà un tempo il sud del cuore l'essenza della saggezza è quello è o e quindi dopo questo c'è la la saggezza in alcune silabe della saggezza andata al di là in alcune silabe quella è la quella è la saggezza andata al di là la saggezza andata al di alla prossima paramita in poche silabe e quindi ora ancora più riassunto una a che è semplicemente una silaba a che quella a e quello ha il significato di insansito vuol dire la parola che nega e ciò che nega e che la parola quello che ha quello che vuol dire è che il mondo come l'io ci appare come reale il modellazione come ci appare come ci appare come azione vera relazione il modo come le oggetti ci appena come reali tutto quanto l'inferno l'illuminazione samsa nirvana la felicità i problemi tutti questi fenomeni forme suoni odori sapori oggetti tangibili i sensi tutto quanto il modo come ci appaiono alla nostra mente questa nostra mente allucinante ci appaiono come reali o completamente quella è una totale allucinazione quella è un'allucinazione per cui quello quella è un'allucinazione questa è l'allucinazione per cui a si dice a si è nega tutto questo nega dicendo tutte queste cose non esistono questo tutto questo non esiste a la la corretta vacuità la corretta vacuità negando l'oggetto di negazione e falso oggetto il falso io falsa illuminazione la falsa inferno falsa samsara falsa nirvana felicità e tutti i problemi tutto quanto falso nega tutto a nega tutto quanto per cui questo prova che il vostro concetto di credere il cento per cento come reale o e di tutte queste cose non avere neanche un dubbio in compreso l'io tutto quanto appare completamente vero credere al cento per cento questo questo prova che questo è un concetto errato quella è l'ignoranza e succederà ancora questa ignoranza continuare questo significato l'ignoranza io vi dico questo che la mente che non conosce e la mente che non conosce tutte le sofferenze vengono da qui realizzando l'origine dipendente la vacuità che nega quello a quel concetto errato allora non c'è tale cosa non c'è questo questo concetto errato e credere in quello questo è veramente molto e molto interessante da dove tutte quante le sofferenze derivano da questo concetto errato questo vostro concetto errato il vostro modo sbagliato di pensare e viene la sofferenza il vostro modo sbagliato di pensare questa questa prascina parametha è il corretto è la natura ultima come le cose esistono e per cui per cui a a e con lì viene riguardato come una ben una meditazione molto importante meditare sul significato della a e che appunto è il sutta del cuore l'essenza saggezza che direttamente rivela la saggezza indirettamente rivela il metodo per ottenere il nirvana la liberazione da samsara e quindi così questo mostra quindi io spesso dico di tanto in tanto prima di recitare sotto del cuore so per recitare bla 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 non così non così e così bla 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 e semplicemente facendo bla 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 allora non non se voi prestate attenzione potrebbe lasciare delle impronte positive ma semplicemente fare bla 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 così come come il bollire dell'acqua su quando è sul fuoco l'acqua che bolle bla 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 pensate e dovete pensare ho sofferto nel samsara da rinascita senza inizio a causa di questa ignoranza ma ripa tutti questi sei riami l'oceano di sofferenza del samsara una dopo l'altra da rinascita senza inizio e poi se non realizza la vacuità in questa vita allora ancora dovrò soffrire e sperimentare oceani di sofferenze dei seriani ancora senza fine non soltanto senza inizio ma anche se non realizza la vacuità in questa vita mentre ho questa opportunità di imparare se lo do di imparare e dovrò soffrire ancora senza fine soffrire della samsara senza fine ancora e ancora quindi il sud del cuore gli insegnamenti della presenza tramita della saggezza andata di là o questo contiene le meditazioni insegnamenti per realizzare la vacuità realizzare natura ultima della vacuità quindi per interrompere per cessare la causa la causa di tutte le sofferenze ignoranza ma ripa il non vedere e non vedere la mente che non vede che non conosce che non conosce la stessa cosa per cessare cessare e sviluppare il combo di cita può ottenere l'illuminazione cessare i difetti grossolani cessare i difetti sottili con la saggezza che percepisce direttamente la vacuità quindi così potete ottenere la felicità incomparabile dello stato di inizienza per gli esseri senzienti e liberare così innumerevoli esseri senzienti dall'ucceano di sofferenze del samsara e condurre la felicità incomparabile dell'illuminazione e quindi allora così c'è una grandissima felicità e quindi leggere il sud del cuore diventa la cosa più importante per la vostra vita anche quello proprio adesso è la cosa più importante per realizzare la vacuità di meditare su questo è la soluzione più importante sì per terminare per portare alla fine la sofferenza del samsara e non avere più la continuità non avere le sofferenze senza fine da samsara e quindi per liberare gli innumerevoli esseri senzienti dal samsara e condurre all'illuminazione wow questa meditazione sul sud del cuore meditare e prestare attenzione a questo non semplicemente recitare le parole è veramente molto importante molta la motivazione quindi adesso la motivazione è importante sto spiegando la motivazione ora voi dovete vedere quanto è importante non semplicemente bla 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 semplicemente semplicemente per passare il tempo quando le persone quando le persone vanno in pensione allora non c'è che loro che non hanno avuto non hanno incontrato il dharma non c'è meditazione non c'è recitazione non ci sia la recitazione di preghiere recitazione di preghiere la meditazione era quello che cosa faccio durante tutto il giorno allora andate lì a lavorare nel giardino nella vostra casa intorno alla vostra casa ogni singola cosa che fate la fate e vi sentite completamente sole per cui vi sentite molto soli non sapete cosa fare quindi impiegate il vostro tempo per avere un piccolo giardino tutto il giorno e poi lasciate che la vostra mente si è completamente distratta dalle piante sì ho sentito che le persone fanno questo e quindi semplicemente quindi così il tempo passa e così il tempo passa bla 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 non è semplicemente per impiegare il tempo con bla 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 allora è veramente molto importante è molto importante prestare attenzione non semplicemente recitare bla 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 e ogni volta che voi fate questo allora allora sì c'è un'incredibile preparazione nella mente una preparazione per realizzare la vacuità è fatta così c'è molta preparazione un'incredibile preparazione ci si avvicina sempre di più alla realizzazione della vacuità e quindi realizzando la vacuità poi così sviluppate la saggezza che realizza la vacuità e quindi questo diventa la percezione di rate alla vacuità quindi così cessate il seme delle afflizioni mentali del karma e quindi così cessate le afflizioni mentali del karma e quindi vi potete liberare dalla vera sofferenza del samsara dall'oceano di sofferenza e così così voi stessi così voi stessi che siete un solo essere un essere del samsara è è importante quando voi fate le preghiere di prestare attenzione di fare prestare attenzione alla meditazione la meditazione la meditazione è una meditazione analitica e poi abbiamo la meditazione di concentrazione ci sono due cose samatha samatha che samatha principalmente non è molto analitica e tutto il resto dovete fare una meditazione analitica e dopo aver fatto la meditazione analitica allora potete ottenere la realizzazione trasformate la vostra mente nel modo corretto di pensare e così potete realizzare il sentiero e ottenere così il nirvana e ottenere l'illuminazione così trasformate la vostra mente nella realizzazione dai concetti errati quindi così per cui è molto importante prestare attenzione è molto importante quando voi fate anche quando voi fate le vostre preghiere non avete attenzione la mente pensa alla spiaggia la mente che pensa di viaggiare a tutte queste cose sta andando intorno al mondo mentre voi state facendo le preghiere non lascia alcun tipo di impronta positiva e quindi voi fate le preghiere non lascia impronte positive non lascia alcun tipo di impronta positiva dovete prestare attenzione perché ci possono essere le impronte positive questo è quello che io penso per favore cominciate poi più tardi naturalmente più avanti quando più imparate il Lamri allora più comprenderete anche Shira Bniempo l'essenza della saggezza e più imparate il Lamri i tre aspetti principali del sentiero fino all'illuminazione la rinuncia la giusta visione e in particolare più voi imparate la giusta visione e più comprenderete il sulto del cuore e senza la saggezza per cui proprio come come ha spiegato la motivazione la motivazione che dovete avere cosa dovete pensare quando leggete il sulto del cuore quando lo fate ogni giorno allora troverete il grandissimo significato ed è veramente un qualche cosa importante è veramente la cosa più importante e più necessaria per la vostra pratica nella vostra pratica ok quindi adesso si legge il sulto del cuore il prosto ai tre nobili rari suprimi così una volta udì il Bhagavan dimorava a raggi sulla montagna picco degli avvoltoi assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangha di Bodhisattva e in quell'occasione il Bhagavan era assorbito nella concentrazione sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda contemporaneamente il Bodhisattva Masattva Avalokitesvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda professione della saggezza e vide anche i cinque regati come vuoti di un'intrenseca natura poi tramite il potere del Buddha il venerabile Shariputa così disse il Bodhisattva Masattva Avalokitesvara come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza così egli parlò e il Bodhisattva Masattva Avalokitesvara rispose allora al venerabile figlio di Sharasvati Shariputa ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura la forma è vuota la vacuità è forma la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità allo stesso modo sono vuoti sensazioni discriminazioni fattori di composizione e coscienza similmente Shariputa tutti i fenomeni sono vacuità sono privi di caratteristiche perciò Shariputa nella vacuità non c'è forma né sensazione né discriminazione né fattori di composizione né coscienza non c'è occhio né orecchio né naso né lingua né corpo né mente non ci sono forme visive né suoni né odori né sapori né oggetti tangibili né fenomeni e neppure il costituente dell'occhio e così via fino a includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale non c'è ignoranza né estensione dell'ignoranza e così via fino a includere vecchiaia e morte ed estensione dell'invecchiamento della morte similmente non c'è sofferenza origine cessazione e sentiero non c'è saggezza suprema né ottenimenti né pura mancarsi e ottenimenti perciò si riputa poiché non c'è ottenimento il bodhisattva si basa né dimorna né a prefazione della saggezza essendo nei loro menti senza più oscurazione e paura avendo trasceso ogni errore raggiungono lo stato finale in nirvana ed è evidente che affidandosi a prefazione della saggezza tutti i buddha dimoranti nei tuoi tempi si sono anche completamente disegnati all'insorpassare perfetta e piena illuminazione perciò il manto della professione della saggezza il manto della grande conoscenza il manto insuperabile il manto uguale a ciò che non è uguali il manto che pacifica completamente tutte le sofferenze dal momento che non è falso va conosciuto come verità si proclama il manto della professione della saggezza Shereputra è in questo modo che il bodhisattva masatta dovrebbe addestarsi nella profonda perfezione della saggezza quindi il bhagavà riemesso da questa magia del cioebo di sato masatta aria valokitesha dicendo ben detto ben detto figlio del lignaggio è proprio così è proprio così si dovrebbe praticare la professione della saggezza proprio come tu hai mostrato ne giudiscono perfino quindi il bhagavà ebbe così parlato il venerabile Shereputra che è stato ammazzato aria valokitesha e l'entrere assemblea torneroro insieme al mondo degli dei uomini insieme ai dei Gandhara esultarono e portero alte lodi alle parole del bhagavà di essere sententi prendiamo rifugio nel Buddha prendiamo rifugio nel dà prendiamo rifugio nel sangue mi prosto la grande madre parte del panoramite tornate tutti i Buddha e le decedizioni del loro spirito spirituale del Bodhisattva per la fidale prossima e voi tutti che possono saprare la verità realizzarsi che ci sono ma ragione super che poi già faccio io posso insieme di 80 mila sa che essere pacificato possiamo essere liberi dai condizioni versi al bar possa avere tutte quelle favore possono esserci perfetti ospite eccellente felicità qui proprio ora adesso per favore concentratevi bene sul significato di queste non con una mente distratta mentre recitiamo il la preghiera fondamenti tutte le qualità eccellenti riconoscendo che la giusta devozione per il mio gentile maestro fondamenti tutte qualità eccellenti e la radice del sentiero per favore beneditemi affinché mi impegni intensamente nel seguirlo con grande rispetto avendo compreso questa rinascita già affortunata si trova solo una volta e grandemente significativa e molto difficile ottenere di nuovo per favore beneditemi finché generi ininterrottamente la mente che ne coglie l'essenza giorno ogni notte questa vita è impermanente come una bolla d'acqua ricorda che si deteriora velocemente che la morte arriverà dopo la morte come un'ombra segue il corpo anche risultato delle azioni negative positive lo seguiranno con ferme stabile convenzione di questo per favore beneditemi finché io sia sempre consapevole nell'evitare anche le perfezioni più sottili e completando grandi raccolti di virtù percependo che tutti i piacere samcari ci sono nella porta che tu inducci a tutte le sofferenze sono incerti non valgono la nostra fiducia e riconoscendo tutti questi svantaggi per favore beneditemi affinché io cerchio con grande passione la felicità della liberazione indotti da questa pura motivazione salga una grande consapevolezza e attenta introspezione la radice degli insegnamenti e mantenere i voti pratimoccia per favore beneditemi affinché possa completare la pratica essenziale proprio come me che sono caduta nell'oceano del samsara così pure lo sono anche tutte le madri esseri trasmigatori per favore beneditemi affinché mi addestino sublime bodhicitta assumendomi il compito di liberare tutti i trasmigatori anche se genero bodhicitta ma non pratico i tre tipi di moralità non otterrò l'illuminazione con una chiara consapevolezza di ciò per favore beneditemi affinché io pratichi vuotevo dissatta con grande impegno una volta pacificata e distrazioni verso gli oggetti errati è indagato perfettamente il significato corretto per favore beneditemi affinché io generi velocemente nella mia mente il sentiero che unisce il camo di murale la visione superiore affidandomi nel sentiero comune quando sarò diventato ricettivo per favore beneditemi affinché io entri agevolmente nel passaggio sacro degli esseri fortunati il vajirayana è sublimo tra tutti i veicoli in quel momento la base per realizzare gli ottenimenti e mantenere puri voti e il samaya avendo una certezza autentica su questo per favore beneditemi affinché io protegga anche al corso della vita comprendendo perfettamente il valore dei due stadi e l'essenza del vajirayana impegnandomi senza indolenza nella pratica della yoga in quattro sessioni per favore beneditemi affinché realisi gli insegnamenti del santo guru così possono il guru che mostrano il nobile sentiero e gli amici spirituali che lo praticano avere lunga vita per favore beneditemi per pacificare completamente tutti gli ostacoli interni ed esterni e in tutte le mie vite future inseparabili dai guru perfetti possa prosperare nel magnifico d'arma completando tutte le qualità e gli stai dei sentieri possa ottenere velocemente lo stato di vajiratara Mo'è grazie? Mo'è grazie? Gu'è giovGianpi Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Vengono I vestiti Grazie a tutti E questo Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Vedete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti